buongiorno a tutti da elzio varrassi oggi è lunedì sono le ore 10 45 ci troviamo in corrispondenza di via dante piove e il traffico in questo momento è tutto congestionato in questo punto poco più di un mese è passato dalla chiusura al traffico di corso umberto primo e stiamo ancora a chiedere a gran voce che venga riaperto noi crediamo che via dante debba diventare un'alternativa per gli automobilisti non un obbligo per il momento è tutto in attesa che corso umberto primo possa tornare alla normalità da elzio varrassi via dante termoli per il momento è tutto un saluto a presto